è forse il modello che dal suo lancio ha fatto più scalpore diventando tra le mieti trebbiatrici di riferimento per il mercato e non solo per le soluzioni tecnologiche impiegate ma perché è bella da far paura tanto che qualcuno l'ha già abbinata ai leggendari caccia imperiali di star wars qui però non c'è nessun codice alfanumerico il suo nome è semplice e diretto si tratta della fend idea che nel suo modello all'apice della gamma la ideal 10 è potente quasi come un caccia imperiale visto che monta un propulsore mn o man se preferite all'italiana da 16,2 litri e capace di 790 cavalli a quattro anni dal suo lancio la ideal aumenta le proprie performance grazie a nuove e innovative funzioni come il sistema di guida parallela che aumenta drasticamente la precisione nella lavorazione delle superfici così ora i modelli che montano l'assistenza vario guide e un ricevitore novatel o trimble possono così ordinare direttamente dalla fabbrica anche il segnale di correzione rtk per una precisione di careggiata di due centimetri passando alla produttività di una mieti trebbia beh questa passa anche per l'efficienza del sistema di pulizia e quella della fend idea 9 per esempio è stato completamente rivisto qui la granella raggiunge il crivello superiore attraverso due salti a doppia caduta ricurvi grazie a questa forma la granella pesante si raccoglie nella parte inferiore del gradino mentre le parti più leggere del trebbiato rimangono nella sezione superiore e quindi grazie a questi due piani di caduta la maggior parte della paglia corta e della pula viene separata dalla granella il secondo gradino di caduta infatti separa ulteriormente le impurità residue con la pulizia che dispone in definitiva di quattro sessioni due sono i piani di ritorno che assicurano una distribuzione e una copertura uniforme sul piano preparatore mentre i gradini ricurvi del sistema di pulizia assicurano un'uscita dell'aria più ampia perché la portata aumenta di smisura e dulcis in fondo esiste anche un distributore spargitore active spread swing flow che è stato sviluppato appositamente per condizioni di raccolta particolarmente ostiche permette infatti di ottenere una distribuzione più uniforme anche in condizioni di elevata umidità sono quindi tantissime le novità della serie ideal defense che vi invitiamo ad approfondire sul nostro sito omni trattore punto it mentre se vi è piaciuto questo video e volete essere sempre aggiornati a 360 gradi mettete un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti